Partono i tanto attesi lavori di asfaltatura di via Calamandrei. L'ordinanza che ne prevedeva l'inizio per lo scorso lunedì è stata infatti aggiornata in virtù della loro complessità. La partenza delle operazioni è prevista per lunedì 11 novembre e data di ultimazione è invece confermata venerdì 20 dicembre. Confermato anche l'orario notturno del loro svolgimento dalle 20.30 fino alle 6 del mattino successivo per limitare al massimo i disagi. Le notevoli dimensioni del cantiere infatti favoriscono un'articolazione a step dello stesso con interventi progressivi che lasceranno inalterata la viabilità nelle parti non interessate. Il punto cardine della disciplina del traffico è che sarà comunque garantita la circolazione in uscita ad Arezzo dunque verso i chiani. È invece verso il centro che i mezzi dovranno volta per volta adeguarsi seguendo percorsi alternativi di uscita e rientro segnalati da appositi cartelli. La raccomandazione per gli automobilisti è quella di prestare attenzione a quanto indicato. Quando invece i lavori coinvolgeranno le proprietà laterali che affacciano sulla strada non sarà consentito l'accesso carrabile di quest'ultime e una preventiva segnaletica indicherà sempre la notte interessata.